Un minuto con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Ci troviamo nella grande chiesa intitolata San Pio da Pietrelcina. Oggi qui perché vogliamo raccontarvi qualcosa che riguarda proprio l'Eucarestia. Come Padre Pio educava il valore dell'Eucarestia ai suoi figli spirituali. Ad esempio attraverso il sacramento della penitenza ha sempre avuto l'intento di andare a educare a questo valore, al valore dell'Eucarestia, a volte negando l'assoluzione a quelli che la trascuravano nei giorni di festa, a volte anche con l'esortazione. A Giuseppe Impagliatelli una volta disse la messa è più del pane. Su quanto poi avveniva nel confessionale non ci possiamo trattenere anche perché l'abbiamo fatto in altra sede. Vogliamo così rimanere sul canto della partecipazione alla Santa Messa. Ecco, egli per anni ha celebrato nella vecchia chiesetta del convento al mattino presto, come ben sappiamo, in tutte le stagioni, ed intendeva stabilire proprio una comunione intima spirituale con i suoi figli. voleva che gli si stringessero intorno quando celebrava, quando innalzava l'agnello immolato proprio per ottenere dal padre il perdono dei peccati, dei presenti e dei fedeli di tutto il mondo. Infatti dice Enedina, Amori, padre Pio ci voleva tutti intorno all'altare, ognuno al suo posto, proprio per arricchirci di quei tesori, tesori di grazia che provenivano dalla passione, dalla morte di Gesù, rinnovata in lui in modo unico. Infrae racconta che una figlia spirituale mancò per diversi giorni all'appuntamento mattutino della celebrazione eucaristica, quando poi finalmente tornò. Quando finalmente tornò ad inginocchiarsi dinanzi all'altare di San Francesco, vide che padre Pio, arrivando dalla sacrestia, quindi per iniziare il santo sacrificio, vedendola, mise la mano sulla sciarpa che lei aveva appoggiato sulla piccola balaustra. E questo lo fece per tre giorni consecutivi. Poi fu proprio questa figlia spirituale che si andò a confessare da padre Pio e chiese «Ma padre, mi avete voluto dire qualcosa con questo gesto, cioè che non devo mancare più alla Santa Messa?» E padre Pio, serioso, rispose e ci voleva tanto a capire.